Buongiorno! Mi sono appena svegliata. Oggi sono riuscita a dormire un'ora in più e stranamente perché mi sveglio sempre alla stessa identica ora però è una cosa che mi è capitata anche in passato quando cerchiamo comunque di... quando sentiamo che ci stiamo un po' svegliando ma... capita che cerchi di rilassarti ancora un pochino nella tua testa pensi di dormire ancora, che ne so, 5 minuti, 10 minuti in realtà poi addirittura dormi un'ora dormi un'ora e quindi scusate per la faccia e appena mi sono svegliata appena mi sono svegliata sono andata... ho fatto come al solito le stesse azioni quindi ho dato da mangiare al gatto sono andata in bagno e poi ho sentito un cane che abbaia quel cane abbaia tutte le mattine alle 8 allora io non so se... secondo me sì oggi tra di voi esiste qualcuno che fa caso a questi dettagli io sono una di quelle persone che questi... questi dettagli le vede... se ne accorge... se ne accorge... perché praticamente i rumori sono una delle cose che mi danno più fastidio in assoluto ci pensavo proprio ieri sera prima di dormire ci sono due cose che mi danno fastidio i rumori e il contatto con le cose sia con le cose che con... cioè non solo contatto fisico tra di noi in poche parole contatto fisico anche con le cose quindi questa è una cosa che ho potuto capire negli anni sono sempre stata molto infastidita anche quando faccio le cose mi vedete sempre molto un po' schifata sembro sempre un po' schifata quando faccio le cose è strana questa cosa anche se non faccio chissà che cosa sono sempre un po' schifata e questa cosa ovviamente è stata frutto anche di risate in passato perché effettivamente sono degli atteggiamenti un po' strani no? e quindi tornando indietro al video al contenuto del video stavamo parlando del fatto dei rumori io ho fatto caso a una cosa interessante molto interessante essendo che ho questo fastidio molto molto marcato ai rumori che mi circondano faccio caso a tutto ragazzi cioè sono un radar ovviamente ho fatto delle ricerche come molti di voi sapranno i rumori per noi a chi danno fastidio i rumori che secondo me siamo tutti però boh su questo non mi sono ancora documentata perché ho scoperto che certe persone hanno più fastidio per certe cose piuttosto che altre però per quanto riguarda i rumori ho fatto delle ricerche e praticamente ci fanno paura ragazzi in poche parole perché effettivamente è un fastidio strano niente ragazzi ci fanno paura è praticamente per questo che che ci danno fastidio è come se il nostro sistema come se il nostro sistema li legge come un pericolo anche se in realtà non è un pericolo perché non sono un pericolo però il nostro sistema li legge come un pericolo vedete che ho la capacità di capire che non sono un pericolo è così e quindi cosa succede essendo che mi danno così fastidio io è come se sono costantemente con le orecchie aperte per sentire i rumori intorno a me quindi qualsiasi cosa dopo un po' mi irrita cioè anche semplicemente se mi metto a guardare un filmato che mi piace ecco questo qua è un trucco quello di svegliarmi appena svegliarmi fare i video tipo sotto effetto di droga riesco a stare ferma se ci fate caso non ho quella quella cosa che mi devo alzare e muovermi aspettate un attimo ho avuto pure un colpo di tosse e dicevo intanto mi sto pulendo il viso mi faccio proprio i cazzi miei no allora ragazzi praticamente dicevo che essendo che oh mamma cadde pure il telefono essendo che c'è questo fastidio incredibile ai rumori mi sono accorta che io tutti i rumori intorno a me a un certo punto li imparo a memoria ho scoperto una cosa molto interessante un po' inquietante secondo me perché io poi quando mi attacco a questi particolari mi fanno anche un po' impressione sono quelle scoperte che mi fanno un po' impressione ho scoperto una cosa molto interessante se voi ci fate caso i rumori che ascoltate la maggior parte dei rumori che ascoltate durante la vostra quotidianità sono gli stessi sempre cioè alle 8 c'è il cane che abbaia alle 7 di sera cioè ce ne sono due o tre di rumori che continuo a sentire tipo loop alle 7 di sera ci sono i cani ci sono due cani nell'appartamento di qua in fondo che urlano perché ovviamente sono andata a vedere perché una volta mi davano talmente fastidio che sono dovuta andare in bicicletta sapete con quella rabbia con quella rabbia in corpo per vedere che cazzo faceva e niente ragazzi semplicemente sono sti due cagnolini che li mettono che poi quando sono arrivata lì tutta incazzata mi hanno fatto pure tenerezza quindi insomma per dire che che a volte che a volte insomma semplicemente niente ragazzi sono lì li mettono dentro a un recinto per farli un po' girare e abbaiano poi che ne so alle che ne so il sabato mattina c'è la persona qua sotto che spassa l'aspirapolvere però quello che voglio dirvi una cosa interessante è che questi rumori sono continui sono continui cioè per per anni sono sempre gli stessi e questo è molto interessante in effetti perché le persone fanno sempre le stesse cose se ci fate caso è una cosa che già sapevo però sono dei contenuti che mi interessano e avevo visto un documentario su queste cose qua che era uscito appunto che sono cose che sappiamo anche noi non è che c'è bisogno che ce lo dicono però essendo che sono cose che mi interessano l'avevo visto in questo documentario e diceva questo documentario che le persone fanno sempre le stesse cose hanno sempre le stesse abitudini e in effetti lo confermate anche voi se ci fate caso avete sempre uno schema che continuate a seguire tipo fotocopia poi noi soprattutto e quindi questo ovviamente questo si lo so a volte sembrano delle cose ovvie però ragazzi per me è importante capire bene questi particolari perché sono cose che mi danno fastidio quindi una volta capito effettivamente il collegamento che le persone fanno le stesse cose e di conseguenza sentiremo sempre le stesse cose questo è importante per le persone a cui danno fastidio i rumori come noi perché io ragazzi mi è capitato in passato ovviamente di cambiare casa di cambiare abitudini è come se rinasco cioè è una cosa pazzesca è come se i rumori esterni è come se diventano parte della mia vita diventano parte di me nel momento in cui io cambio completamente ambiente sì al di là del fatto che sia una cosa difficile non difficile eccetera eccetera però è una cosa che possiamo fare io avrò cambiato dieci case prima di arrivare qua quindi insomma sono cose che si fanno non è che non le possiamo fare e e mi ricordo che è come se rinasci cioè è come se vai dal parrucchiere cioè rinasci completamente diventi completamente completamente nuova e questo è molto interessante perché ho notato che mi fa bene e ho notato anche che continuare a sentire le stesse cose anche che sono dei piccoli ragazzi è pazzesco anche se io oggi sento un rumore anche piccolo e poi quel rumore lo sento tra una settimana sempre a quest'ora e poi lo sento tra due settimane sempre a quest'ora ragazzi a me mi inizia a dar fastidio quella cosa cioè mi inizia a irritare perché non voglio più sentire quel rumore a me da fastidio continuare a sentire le stesse cose perché si crea nella mente non so spiegare un loop un loop che mi da fastidio cioè io vorrei sentire sempre cose nuove cose fresche e e quindi e quindi da qua ne approfitto per dirvi che nei prossimi anni in realtà come come vorrei vivere nei prossimi anni nei prossimi anni la mia il mio ideale sarebbe andare in una casa trovare una casettina anche 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 molto a buon mercato voglio dire in un posto molto isolato in modo che ci siano meno rumori possibili e poi prendermi il camper prendermi un camper che mi dia la possibilità di vedere luoghi diversi e assimilare rumori diversi per vivere diversamente ragazzi perché altrimenti io comunque rimango mi sono accorta che rimango immobile non faccio cioè non sono una che apre la mente e va a farsi fare esperienze va da tutte le parti io rimango piuttosto immobile e poi se mi muovo voglio voglio essere io al comando mi da fastidio essere essere mossa cioè mi da fastidio che mi muovono che mi muovono il corpo mi da fastidio voglio essere io a fare le cose e il camper è perfetto perché se ci pensate ci dà la possibilità di governare la situazione e intanto però vedere i posti che ci piacciono andare a scrutare a scoprire posticini interessanti un po' isolati andare un po' all'avventura così si va anche ad aiutare quella parte avventurosa che purtroppo rimanendo fermi soffre c'è una parte avventurosa di tutti noi che se noi gli facciamo fare niente poverina dopo un po' inizio a soffrire in questo modo il camper è perfetto perché vado ad accontentare tutte le situazioni in modo tale che nel momento in cui inizio a entrare in sofferenza che mi da fastidio stare in un posto per troppo tempo prendo il mio camper e me ne vado via una settimana due settimane o una volta a settimana prendo e me ne vado vado a farmi due o tre giorni da qualche parte quindi volevo condividere con voi il mio programmino che sarà molto impegnativo però ho realizzato che è quello che vorrei fare è come vorrei vivere e andare via da qua per iniziare veramente a vivere ragazzi perché io praticamente sono chiusa come sapete anche voi io sono chiusa in casa per varie ragioni alla fine mi sono fermata però non va bene mi rendo conto che non sto bene a livello psicologico questa scelta mi ha fatto male questa scelta questo modo di vivere mi fa male perché non è che lo scelgo io a me da fastidio a me danno fastidio molte cose e quindi non è che ho deciso io avendo il camper sarei molto più autonoma e potrei un po' allargare la mente in modo strategico coi miei tempi sì, sempre con un po' di paura però sapete con quello spritz di avventura che poi magari mi porta a fare le cose mi porta a fare le esperienze che dire ragazzi chi vivrà vedrà se rimanete con me scoprirete anche questo pronti all'avventura? andiamo?! Ahahahahahahahahahahah!